Qualche giorno fa è stata proprio fatta ad Ortona questa serrata di commercianti e sindaci contro il caro energia. Sindaco Leo Castiglione, il problema comunque resta e si fa sempre più pressante, visto che le giornate si sono accorciate. Voi avete fatto anche una sperimentazione che purtroppo non è andata bene, però vi ragioni. Accendere in ritardo e spegnere prima la pubblica illuminazione porta anche a delle conseguenze a livello di sicurezza. Quindi sono stati coinvolti tutti gli attori principali e da queste riunioni è venuta fuori una proposta di delibera omogenea che tutti i sindaci avrebbero dovuto applicare almeno su due azioni dirette. Cioè la prima era l'accensione della pubblica illuminazione alle ore 18 e lo spegnimento alle 5 e mezza e poi fino a fine novembre, poi per dicembre invece alle 6. Inoltre, oltre a questo, anche la riduzione della temperatura nei pubblici uffici, tranne nelle scuole e ospedali, a 18 gradi. Queste erano le due decisioni prese da questo comitato. Poi invece nel mettere in atto queste direttive ci siamo resi conto che accendere la pubblica illuminazione alle ore 18 in questo periodo è praticamente assurdo. Io sono ritornato subito sulla decisione per quanto riguarda l'accensione e quindi ho riportato alle ore 17 appunto l'accensione della pubblica illuminazione. Resta fermo invece lo spegnimento alle 5 e mezza di mattina. Voi avete fatto una previsione di spesa per quanto riguarda il 2023, per quanto riguarda le utenze, che quindi sono quelle degli uffici comunali, delle scuole. Cosa avete previsto? Noi per l'anno 2022 siamo riusciti a tamponare questa situazione perché già l'aumento c'è sulle bollette, però con i fondi stanziati per il Covid e altri residui in bilancio siamo riusciti a tamponare questa situazione difficile. Per il 2023 siamo seriamente preoccupati perché noi abbiamo previsto, in base a quelli che sono oggi i consumi e i costi, un aumento di circa 600 mila euro per la pubblica illuminazione e 200 mila euro invece per il gas, quindi per il riscaldamento. Quindi per un totale di 800 mila euro che si capisce chiaramente è difficile trovare una disponibilità economica di questa entità in un bilancio comunale come quello di Ortona, perché parliamo di spesa corrente, non è un investimento, quindi si può accendere un mutuo che potremmo fare visto il bilancio sano che abbiamo. Questo non è possibile e quindi i cittadini sanno che o saremo costretti a tagliare quello che si potrà tagliare in termini di servizi, sempre a discapito dei cittadini, oppure aumentare le tasse.